Ciao a tutti ragazzi sono Ede e benvenuti in questo nuovissimo video, siamo qua nella mappa zona 85 revamped e scusate questo suono è sottofondo ma c'è un caldo boia e devo accendere assolutamente il ventilatore e in ogni caso non è puntato verso di me ma sta girando verso la stanza perciò non sentirete sempre il frastuono, ecco ora lo sentite perchè più va verso il microfono spero che non sia un casino insopportabile perchè sennò devo cancellare il video e nulla, sono qua negli msg normali però mi sa che vado nei solo tra poco perchè davvero i team hanno rotto il cazzo nel senso, cioè io faccio team però quando sono da solo non vorrei insomma incontrare team non sono abbastanza forte per gestirli e pertanto qua non c'è altro nessuna cosa positiva, questa ok non prendiamo ho convinto questo qua ad andarsene ma se realmente è tornato eh però hai dei problemi ascolta cioè se torni dopo un po' senza che ti aspetti vabbè ok evidentemente non era proprio il genio della furbizia sto tizio andiamo su cazzo qua ci hanno già dato qualcuno mi sa e allora niente bisogna cambiare il cestro perchè sennò siamo fottuti andiamo tipo al faro di qua non dovrebbe esserci nessuno com'è che sono già arrivati? non ho capito vabbè comunque dai qua su che c'è comunque un t2 là potrebbe essere redditizia quella lì sì molto redditizia mi piace molto stati 2 almeno mi sono fatto un equipment decente adesso andiamo sopra il faro che abbiamo 2-3 robe mi sento potente oggi non so perchè ma mi sento come se potessi fare una bella partita poi magari perdo eh però ho una sensazione positiva buono buono comunque allora no cazzo faccio non riesco a prendere oh 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 ecco questa era una cosa che volevo fare perfetto adesso se ti immagino un secondo inventario non riesco a controllare il mouse dai un po' di polvere forse sotto non lo so ah cazzo arriva qualcuno no ok se n'è andato se n'è andato io non vorrei perchè cioè se ci può dovere sul tappetino non riesco a controllare il mouse eh mi sa che devo cambiare tappetino i mouse prima o poi perchè sono davvero non per il gioco dov'è che è andato il tipo boh beh proviamo ad andare a vedere se nella caverna boh magari è rimasto qualcosa magari non conoscevo una t2 quella lì dietro la il fuoco cioè la lava intendo comunque come potete avete potuto vedere forse boh ehm sono arrivato a 1000 iscritti mille e quattro per la precisione ero già arrivato come sapete però praticamente questo non l'ho preso però praticamente youtube aveva cancellato gli iscritti perchè ogni tanto lo fa perchè per gli inattivi e quindi ero risceso a 111 adesso sono ritornato a 991 scusate e adesso sono ritornato a 1000 ed è una cosa bella qua non c'è arrivato nessuno veramente è una cosa bella ovviamente perchè comunque 1000 iscritti cos'è che ho buttato non so 1000 iscritti sono comunque tre cifre cioè quattro cifre 1 0 0 0 quindi fa anche come come aspetto proprio visivo è più più bello ovviamente sto oh cazzo ok ok quello lì bisogna ah bravo ok è low ground quindi potrebbe avere un vantaggio ma dove cazzo è andato ok diciamo che è stato abbastanza un combattimento piuttosto semplice non era proprio fortissimo questo tipo vabbè stavo dicendo appunto che 1000 iscritti comunque è un buon perchè sto facendo un film test basta che esatto è sempre meglio che averne meno appunto a livello diciamo così visivo entri a far parte dei clan dei grandi youtuber anche se ovviamente non sono un grande youtuber e man mano che youtube va avanti diciamo la strisola si alza sempre di più perchè comunque c'è gente che arriva a 2 milioni di iscritti youtube italia perciò è un po' difficile raggiungerli ma diciamo che io non voglio raggiungerli assolutamente cioè non è proprio una cosa di cui me ne frega niente io basta che faccio video e mi diverto e spero che intrattengo anche voi questo è una cosa che mi fa molto piacere e purtroppo non uh che palle non sono full ferro è una cosa che mi da un po' fastidio però andiamo dall'altra parte perchè io vorrei sono messo bene sono messo molto bene e vorrei vedere se c'è qualche cibo crudo di merda se c'è qualche freccia perchè le frecce sono molto importanti per il mio stile di gioco come potete vedere io sono molto diciamo così attaccato al mio arco allora questo lo buttiamo questo via questo può servirmi questo mi serve questo devo farmi le frecce quest'arco via non mi serve via questa questa potrebbe servirmi la mettiamo qua via i cookie prendiamo questi via questi via questi dai così com'è che non si vabbè non lo so questa via questo è il miglior cibo del mondo la carota d'oro Tom sarebbe contento ok andiamo a farci le altre frecce anzi qua c'è una t2 cazzo mi sono dimenticato come ho fatto a dimenticare questa t2 qua ah però l'hanno già presa rip vabbè hanno messo anche un bounty bene su slow 20 ah sta bauntando tutti sto tipo cos'è forse l'hanno l'hanno ucciso era nenti non lo so potrei vedermi anche le stats vediamo le stats di tutti dai allora slow 20 ha delle stats abbastanza schifose lui ha delle buone stats vabbè niente di che lui ha delle si anche buone stats ma niente di che lui ma insomma siamo tutti abbastanza allo stesso livello non mi sembra ci siano fenomeni ecco io non lo sono di certo chiaramente se fossi tipo wow i grevi da quella gente la questa partita l'avrei già vinta da mo però vabbè adesso non mi sembra che ne esistano ecco è morto slow 20 e sono morti anche quei due spero che non fossero in t cioè che non siano in t questi due qua perché se no mi incazzo mi sa che erano tipo allo spawn adesso andiamo a farci al faro le frecce perché sono quelle robe che mi servono 5 watching quindi vuol dire che prima c'erano dei team perché evidentemente se stanno aspettando vuol dire che gli interessa però dai dai frecce frecce servono frecce servono frecce ce la faccio a farne prima della fine non so ah 25 si si la faccio la faccio allora feather flinto cannato perfetto 19 frecce buono migliore di niente posso far rimuovere cos'altro no perché non ho niente ok allora mangiamoci la carota d'oro questo via questo qua ok e prepariamoci per il deathmatch messo bene e l'altro non lo vedo e dall'altra parte sembra messo bene anche lui non so se sono in team spero di no ok questo qua mi chiede team quindi magari non sono in team ok non sono in team ah is hacking ok 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 si sta citando allora dio bono non riesco a prenderlo questo qua ha definitivamente cesto di farti in con me che palle non ho più frecce madonna di dio non sembra non mi sembra che sia citando onestamente oh gg ed gg veramente bella me la sono giocata molto bene ok non ho parlato durante il deathmatch perchè non è una cosa che mi piace fare perchè voglio concentrarmi sul gioco ah beh prima partita del giorno l'ho vinta si oggi è proprio un bel sono in una good mood ok allora direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.